Buongiorno. Oggi siamo nel quartiere di Santa Andrea a Vicenza, in un appartamento al terzo ed ultimo piano di una palazzina posta in una via secondaria. La soluzione, caratterizzata da ampi spazi ed un salone luminoso, si affaccia sui tetti della città con vista delle montagne all'orizzonte. La cucina è separata con uscita su una terrazza coperta, fruibile anche come spazio lavanderia. La zona notte si compone di tre camere, un bagno con vasca ed un ulteriore servizio giorno, entrambi finestrati. La struttura portante del fabbricato consente ampia flessibilità nella ridistribuzione degli spazi con possibilità di creare ambienti aperti o ampliare il secondo bagno. Il riscaldamento è centralizzato con contacalorie, mentre al piano terra l'unità ha una cantina privata, un posto auto in autorimessa comune ed un posto autocondominiale dedicato all'interno del cortile recintato. Sant'Andrea è una delle aree più esclusive e ricercate della città. La tranquillità, la vicinanza al centro storico, all'ospedale, al tribunale e dal polo universitario, oltre alla presenza di tutti i servizi, fanno di questo quartiere un best seller per la popolazione di Vicenza. Per maggiori informazioni o per prenotare una visita, non esitate a contattarci.